Momenti di tensione all'esterno di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, dove alcuni lavoratori dell'Astil, società in house della Regione, hanno provato a forzare il blocco della polizia ad entrare nel palazzo. Transenne divelte, malori per due donne. Sono 29 giorni che davanti Palazzo Santa Lucia i lavoratori sono in presidio, giorno e notte, quasi un mese. Protestano per chiedere l'avvio della cassa integrazione in attesa dell'annunciata di collocazione nelle nuove società per la bonifica ambientale. Non si può ottenere persone per sei mesi e mezzo senza soldi, senza dare una prospettiva e un'indicazione precisa. Siamo reduci da un incontro già fissato dal direttore a Vallone dell'Inps provinciale, il quale era impegnato ancora a Roma. Siamo andati là chiedendo, anche senza l'incontro, che si corrispondesse a quando ci avevano detto verbalmente che è tutto a posto, che si tratta solo di aspettare i tempi tecnici. Abbiamo chiesto una nota per rassicurare le persone, ripeto, sei mesi e mezzo, quindi insomma in qualche modo una risposta era dovuta ai lavoratori. Questa nota che è stata annunciata davanti ai responsabili della DICOS, dopo mezz'ora è stata negata e dice non la possiamo fare. Allora evidentemente questa cosa è scoppiata, anche perché il presidente della regione che aveva avversato un incontro ieri alle 9, non alle 9, in giornata ci ha tenuto fino alle 9 qua sulla corda e alle 9 è sceso il solito funzionario della DICOS che ci diceva che l'incontro era saltato. Non è un modo per poter affrontare queste questioni. Cioè noi che dobbiamo fare? I tappetini sono 450 famiglie che sono da sei mesi e mezzo senza una lira, con problemi anche sulla prospettiva occupazionale.